Bara banda per intonare marce funebri corte o con i trattori. Per manifestare la morte del grano italiano, gli agricoltori del centro Italia si sono dati appuntamento martedì 25 ottobre alle 11.30 al casello A1 Valdichiana a Bettolle in provincia di Siena. Si tratta, spiega Luca Ginestrini, vice direttore di Confagricoltura Rezzo, di una manifestazione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle difficoltà che il grano italiano incontra a causa dell'ormai insostenibile contrazione dei prezzi. L'iniziativa è stata promossa da Confagricoltura, CIA, Pima e Cooperative. Parteciperanno alla protesta che vedrà i trattori invadere la zona dalle 8.30 alle 14 e alla cerimonia funebre gli agricoltori di Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio. I produttori di grano continuano ad essere oggetto di un'azione speculativa senza precedenti. Le aziende sono fortemente indebitate e minacciano lo stop delle semine, continua Ginestrini. Vogliamo misure urgenti e concrete per difendere la cerealicoltura italiana, rivendichiamo il giusto valore del prodotto made in Italy e la valorizzazione delle filiere virtuose e della loro completa tracciabilità. Quello che occorre, fanno sapere, è l'adozione di un sistema di tracciabilità dal camp allo scaffale per attestare l'origine italiana del frumento duro e l'approvazione di una norma che renda obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta.